Gli operatori di Hope for Pose ricevono una chiamata per tre cuccioli che vivono in un cantiere a Los Angeles insieme ad un cane adulto che si pensa essere la loro madre. Dopo un approccio amichevole dovranno faticare un po' per catturare tutta la famiglia, ma solo alla fine dell'operazione si scoprirà che l'adulto era in realtà il papà dei cuccioli che in assenza della madre non li ha mai abbandonati.